musica 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 io non voglio fare la conferenza stampa voglio andare al cerbero voglio andare lì che a me mi diverto let's go musica 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 cazzo Natale è brutto da solo però ho busco dalla vicino ma da solo non so il così genere ma almeno 10 persone no vabbè ma è un momento passo aiutando ho sempre io qua da solo davanti a una telecamera però pensandoci bene questo è proprio il primo da solo da solo non sempre io sono solo oltre a tutti i miei compagni, ragazzi, vieni a casa mia, vengo pure a casa tua, non dico neanche che ti conosco, non dico neanche che sei, con tutto il bene che ti voglio, a Natale lo passi con gli amici, lo passi con i parenti, la più grande potenza mediatica d'Italia mai creata, ma non mi hai detto niente, ma che stai a fa, ricordate che i squali stanno a arrivare, Scusa Marco, ma questa è una cosa gravissima, questa è una cosa gravissima, non può partire la trasmissione, che è successo? Allora, io ho bisogno del countdown di Marco, perché ci sono le intro, Scusa Marco, che mi hai stunnato col microfono, e no, per cosa ho detto, spegni il mic, che non è ancora arrivato, ho fatto Rubino, ma abbassa la voce, non ho mai sentito, mi sa che l'hai fatto nella tua testa, la rifacciamo, rifacciamo, vi metti un attimo un intro e rifacciamo Rubino, sennò non si può partire, vado, che cazzo, te lo ridico, Ma che stai a fa, ricordate che i squali stanno a arrivare, Hello, Closhars, e benvenuti in questa nuova trasmissione, grazie mille, allora ragazzi, sono nel pallone, Sì, il pallone proprio, perché devo incazzarmi, come al solito, con i servizi che ci fornisce lo Stato, E scomodi è il pallone, e scomodo è il pallone, e anche i servizi delle utenze private, Eh, ma sai che l'acqua a noi è privata? Sì, ebbè, puoi fare dei cambi di un certo tipo, c'entra sia l'acqua privata che quella pubblica, guarda, in questa equazione, Chi la detiene l'acqua? È successo proprio un delirio, ve la faccio breve, grazie 94, so che tanto piace il racconto delle disgrazie, no? Sì, sì, guarda, da un po' di, diciamo, settimane, progressivamente, in casa, abbiamo notato un problema di pressione dell'acqua, Ok? Nel senso che non usciva poca, sì, non usciva poca per fare la doccia, ci metteva sette anni per diventare calda, Però, nel senso, nulla di eccessivo, poi, nell'ultima settimana questo problema si è intensificato parecchio, Vabbè, giustamente oggi Alex, che è l'uomo di casa, ha detto, fammi un attimo chiamà, Per capire la situazione, facciamo venire un tecnico, eh? On fire? Sempre lei, che soprattutto lei ci sta quasi mai, quindi capito? Io pago, almeno quella parte lì, cioè, di solito lo smezziamo, però, nella mia metà di spese da pagare, C'ho tutte le rotture dei coglioni delle bollette, ok? Nella mia metà, e quindi pago e sto zitto, Però, non faccio caso a queste cose, effettivamente, quindi quando Ale torna alla Svizzera, Si accorge delle cose di cui dovrebbe accorgersi sottoscritto, ma che in realtà ignoro, Perché la mia doccia dura tipo 30 secondinetti, e ghiacciata va benissimo, capito? Quello è il punto, quindi, la prendo pure un po' come una sfida personale alle volte, Vabbè, quindi, giustamente chiama, anche perché ha la cazzimma di arrabbiarsi contro gli operatori down, Non la sindrome, eh, per l'amor di Dio, però gli operatori stupidini, O fastidiosi, e, vabbè, essenzialmente, fanno un controllo e vedono che mancano tre bollette da pagare, Ma, che il problema non è dovuto a quello, Cioè, hanno detto, sì, ci sono tre bollette non pagate, però non è quello il problema, Della pressione, Della pressione, quindi, evidentemente, c'è un problema nella zona nostra, non ne ho idea, Verrà un tecnico, qual è la cosa divertente, però? Che io, ho detto, ma come cazzo è possibile? L'ho sempre pagata l'acqua, l'ultima, una settimana fa, E mi ricordo perché mi ricordo, perché ho fatto proprio il bonifico diretto, Dato che, come al solito, scompaiono bollette fisiche, A un certo punto sono riuscito a trovare il numero dell'utenza, Alla fine ho saldato quello dove ho saldato al tabacchino, Quindi mi ricordavo una cosa, vabbè, sento la proprietaria di casa, Sentiamo al telefono questo operatore che dice, Eh, ma mancano queste tre bollette perché avete disattivato il servizio cartaceo. In che senso? Che avete sostituito con il servizio... E torno al cartaceo, hai detto? Eh, abbiamo detto no al cartaceo, secondo loro. E perché? Sostituendolo con il servizio mail. Io faccio, ma a me non è arrivata alcuna mail, sarà arrivata forse... Perché te volevi APEC, volevi? APEC? No, io volevo il cartaceo. Il cartaceo. Oppure l'addebito diretto, che sono mesi che provo a fare, C'è riuscito con tutte le altre utenze, ma non con l'acqua, Anzi sa perché, sono sei mesi che ogni volta faccio volture, Cambio, derutture di cazzo, niente. Con le altre ci sono riuscito, così non rompono i coglioni, Fanno loro i prelievi, magari con un sovrapprezzo, Mi rubano i soldi, ma non me ne accorgo, ok? Vabbè, là quando ci sei riuscito, non si sa perché. Alla fine ho detto, ah, forse avranno mandato alla proprietaria l'email. Chiamo la proprietaria, mi fa, no, ma quale mail? Mi fa, non è arrivata alcuna email. E neanche cartaceo a me. Ok, richiamiamo, ah no, forse alle volte il sistema che in automatico cambia da cartaceo a mail. Sì, ma io come faccio a pagarle se l'email non arriva a me? Ma non è finita qua. Perché, cosa ho detto prima? Che io pagavo acqua in questi mesi e l'ultima una settimana fa. E qual è il bello? La proprietaria mi dice, ma tra l'altro Davide, ma per caso mi è mai arrivata da pagare una bolletta acqua sabina? Acqua pubblica sabina? Il mio cervello subito elabora e ricorda il bonifico intestato ad acqua sabina! Greve! S.P.A., la roba del genere. No, forse non S.P.A., vabbè. Acqua sabina. E mi fa, e mi fa, perché quella è l'utenza dell'acqua dell'altra casa mia. No! Quindi io per due anni e mezzo ho pagato, aspetta, doppie utenze di acqua saltando tre bollette dell'acqua della mia casa. Questa è una cosa gravissima. È una cosa gravissima perché io non rivedrò più una lira di quei soldi. No, te li fanno calcolo e li devi scalare. Li scalo dall'affitto, ma lei non li rivedrà. Ah, perché se la cosa criminale, forse Marco ne sa qualcosa perché aveva accennato in passato. La cosa criminale è che se tu... Perché è un criminale. Oddio, chi è? Mr. Narra. Oddio, io, Mr. Narra è entrato. Salve a tutti. Salve, 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 salve. Ma la cosa più greve... Ma la cosa più greve è che Marco Titano... Perché? No, continuate voi. Ma la cosa più greve è che Marco Titano... Si ricorda bene di questo problema dei crediti. Perché? Quando tu sei in debito, giustamente ti rompono i coglioni costantemente, ti mandano i recupero crediti, ti mandano un mammut in casa. Quando tu hai un credito, succede questo! Succede questo! Perché loro non ti faranno mai il bonifico. Cioè io adesso dovrei fare il calcolo. Dei soldi pagati per questa fucking acqua sabina. Che, altra cosa più greve... Fatte fare una bella cassa d'acqua ogni tanto. Altra cosa più greve. La proprietaria mi ha detto, ma io pure ho pagato l'altro giorno una cifra di bollette di quest'acqua sabina che non avevo pagato. Infatti credevo che mi avessero staccato l'acqua in quest'altra casa che non uso. E ho pagato tipo 400 euro. Quindi vuol dire che questi si sono intascati... I soldi tu e i suoi. Tutti i soldi miei degli ultimi due anni. Altri soldi da questa proprietaria, compresi all'interno di questi 400 euro più di 91 euro che ho pagato io la settimana scorsa. E sti soldi ne rivedremo più. Perché? Perché io cercherò ovviamente di dire alla proprietaria, guarda, ho pagato, me li scalo dall'affitto. Sperando che lei sia buona. Ma lei in qualche modo dovrà giustamente pretendere di riscuotere il credito. Ed è la cosa più difficile al mondo. E uno potrebbe dire, beh, intuitivamente non te vogliono fare bonifico, ma le prossime bollette te le scalano. E non lo fanno! Non lo fanno! Fanno dei sistemi ultracomplessi per renderti questa operazione impossibile. Cioè, magari lei adesso avrà un credito di 400 euro. Perché questi 400 euro che ha pagato, in realtà l'avevo pagati pure io. Facendo il calcolo, già sarà una difficoltà immane ricostruire tutto. Sarà una difficoltà immane. Perché spesso magari le paghi al tabaccaio con la carta. E ciao Core, non è che te scrive come in questo caso. Acqua Sabina, perché ho fatto io il bonifico diretto. Perché anche quello era un sollecito di pagamento. Quindi vuol dire che dobbiamo, ah, ricostruire. Per capire chi ha pagato cose. Sto Sabina comunque... Eh, la mignotta. Il ratto dei Sabine. Vedi, hanno fatto bene ai tempi. A me mi era capitato che ho fatto comunque una cosa simile. Cioè, praticamente, noi avevamo una casa che avevamo dato la disdetta. E io stupidamente non mi sono accorto che per tipo nove mesi però, anche se abbiamo cambiato casa, anche se avevamo levato il modem, era tutto disattivato. Comunque mi continuavano a chiedere i sordi e io li pagavo in automatico col banco, ma col conto. Però io avevo detto di disattivarlo. E addirittura mi hanno chiamato... Dopo che l'ho disattivato hanno continuato a mandarmi le bollette. O io ho levato il pagamento. E per tipo sei mesi hanno continuato a mandarmi le bollette. O tutto che io avevo... Ti fa incazzare come una bestia. Una cosa folle. Mi hanno iniziato a chiamare i recupero crediti dicendo che mi farebbero un'ingiunzione di pagamento con cose, te levamo tutto e faccio... A parte non c'è un cazzo. E non me levate nulla. E io poi gli ho fatto... Poi me li dovete da voi i sordi. Sono riuscito a dimostrare che me li dovevano da loro. E cioè avevo un credito di 400 euro. Ah, ragione, lo sai, è vero. Sì, è vero, è vero. Ma è più sentito. Sono scomparti. Mi hanno ammesso che è vero. Hanno smesso che è mercazzo. Però nessuno mi ha dato una lira e sono scomparsi nel nulla. Allora, è ovvio. È così che funziona. No, ma purtroppo questa storia è assurda. Ma voi ne parlate come se fosse strano, se sembrate quasi stupiti del fatto. È il mondo, ragazzi, funziona così. No, no, sono d'accordo, però... Cioè sono quei sistemi... Non vedo errori. Sono quei sistemi inossidabili che però mi fanno un cazzà come una bestia. Perché proprio sono costruiti apposta per metterti in difficoltà nel riscuotere qualcosa e romperti il cazzo. Diciamo che la regola di queste installazioni burocratiche è la seguente. Nel dubbio meglio de' più. Nel dubbio meglio de' più. Se paghi de' più, e vabbè, sti cazzi. È sempre così. Non è che nel dubbio un controllo in più. E la cosa giusta che stai scrivendo in chat, ma tu coglione di un marra, non ti sei accorto di aver pagato due volte le bollette della luce? Sono un coglione, questo è vero. Ma qual è il problema? Cioè qual è stato il problema? Che queste tre bollette mancanti, che secondo me potrebbero anche essere... Cioè queste tre, ok. Si sono unite ad altre bollette mancanti di quest'acqua sabina. Perché? Cosa? No papà. Non dà niente a nessuno se sono una prigione con macete. Oh no va bene. Ma non c'ha la sabba che ne è pazzo. Ma che è sta cosa? Ma che è sto scempio? Non va bene sta cosa. Quindi cosa è successo? Che io sono stupido, questo è vero. Ma il fatto che queste bollette di merda nel tempo sono arrivate sempre cartacee e mai, nonostante i continui solleciti, sono riusciti a farmi, grazie Ray, a farmi la debito diretto sul conto corrente con la voltura, B, farla arrivare a me tramite fucking pack o email, mai ci sono riusciti in due anni, la follia l'ho chiamata penso 70 volte. Che cosa è successo? Che alcune bollette fisiche, cartacee, si sono perse per strada. Investigate. Da entrambe le parti! Quindi, alla fine, io, non è che ho pagato sempre due volte le bollette dell'acqua, ogni tanto sarà capitato, ma io come cazzo mi accorgo, se in un mese non mi arriva Sabina, magari l'ha pagata la proprietaria all'interno dei 400 o magari non è mai arrivata e va ancora pagata, non mi arriva Sabina ma arriva quella mia, pago la mia. Mese dopo il contrario, non mi arriva la mia per questa merda di roba che hanno fatto loro da sistema interno, e mi arriva Sabina, pago Sabina. Cioè, poi non è che uno si accorge, capito? Non è che uno si accorge, anche perché poi c'è il nome della proprietaria, dice, oh, non ho pagato l'acqua, effettivamente, sì, capito, acqua, vedi là. Certo, sarei, cioè, potevo essere più attento, questo è un dubbio, però, si sono un po' alternate in questo gioco al massacro, però, tu non è che ti accorgi se non ti arrivano per, che ne so, un mese e mezzo, poi mi arrivano 40 bollette diverse, cioè, tra internet, elettrica, e quell'altro, cioè, quindi dici, oh, boh, non mi arriva da un mese e mezzo l'acqua, ma poi non lo so, a volte, si fida pure, no? Eh, ma poi, a volte, magari si accumulano, che cazzo ne so, spesso poi vanno perse per strada, pure qua, quante cazzo di volte abbiamo dovuto fare, Simone se lo ricorda, Mr. Narra pure, quante volte il centro team, perché non arrivava nei bollette fisiche, vai là, fate di quello che manca e ripaga, fai il bonifico tutto il resto. Sono dato che l'hai citato, voglio, voglio annunciare che, Dutubbi è affetto dal virus del dengue. No! Comunque, sì, è assurdo. È assurdo, Mr. Narra, perché... È un virus sudafricano che dovete sapere che ha ammietuto ben 28 vittime in Sud America. Sì. Dovreste avere tutti paure. Il sudamericano, il virus, non ho capito, ho capito che era sudafricano, ho capito male. Sud americano. Sud america, sud america, no, no, c'ha ragione Mr. Narra. Greve. Tutta sta l'antropia per fare più sub. Beh, non lo so, donano nella cinquantina. Vai, vai, che andranno tutte quante bollette acqua sabina. Donate sub per la ricerca del dengue, servirà un vaccino al più presto possibile, se no Dutubbi non lo vedete più. Vai, soldi per il vaccino in sub. È bello, perché è stata una profezia, tu avverratti, te ne non c'eri a mezzogiorno di fuoco, ma chi ha visto sa, chi ha visto sa e non voglio spiegare oltre, perché già era diventato meme il dengue. Recuperatevi la puntata di mezzogiorno, che è stata una follia assoluta. Comunque dai, vi ho rotto un po' i coglioni con i miei racconti all'interno del mondo italico. A me era successo col gas, con dominio, con guaglio, purtroppo. Ti voglio bene dengue, 150 sabri risolviamo stamagani. Sì, infatti, ci pagamo tutti con guagli. Però capite che, al di là della situazione mia personale, e poi magari rompo pure i coglioni. Non lo so se diverte voi, come diverte me raccontarle. Però, per il solito discorso, uno deve anche un po' piasse per culo nella vita, quello che dicevamo ieri, deve ridere delle proprie disgrazie. Però, cioè, alle volte, cazzo, ti rendi conto che sembra tutto fatto apposta per metterti in difficoltà. Cioè, pure sto mix in Italia fatto male, un po', arrivano sul conto corrente, un po' cartaceo, un po' emel. Ma è che sembra, lo è. Capito? Ti fa 40 chiamate e quello dice, no, l'operatore, devi parlare con quello, mi serve quell'altro, perché... E poi non fanno. Cioè, tu dici sì e non fanno. Come quello che c'è, che c'è successo con la team. Che per due anni abbiamo continuato a pagare la team del porco Dio della caverna. Ma l'avevamo fatta 40 volte. Provate a disdire un contratto team. Vi sfido a provare a disdire un contratto team. Proveranno con tutte le tattiche di qualsiasi libro di venditori per dissuadervi. Vi proporranno mille cose. È vero, sono cose studiate per renderti la vita difficile, per vincolarti a vita. Ma poi è tecnicamente impossibile alcune volte. Cioè, te lo rendono quasi impossibile. Cioè, tu fai richiesta, viene approvata, si perde. Cioè, a me mi è successo tipo queste cose. E poi, dopo che l'ho fatta, mi continuano arrivare le bollette. Cioè, quella è la cosa più assurda. E le ho dovute pagare. Ecco, mi è arrivata una bella mail di Acea, proprio in questo momento. Che bello. Gentile cliente, teniamo... Ah, questa, questa. Che è? Gentile cliente, teniamo molto al rapporto con i nostri clienti. Allora... Ammazza, ti vogliono bene. Allora, intanto, andate a fare in culo. Primo, non mi chiami gentile, non mi chiami cliente. Ma soprattutto, ma che cazzo l'ha scritta a sti mail? Ma secondo voi, io posso leggere gentile cliente, teniamo molto al rapporto con i nostri clienti. Ma scrivetele meglio! Perché loro devono mettere il gentile cliente che è fisso. Ma non ripetete cliente un secondo dopo! Non tenete a me, allora! E poi questa, questa roba proprio ridicola che è simile al discorso che facciamo ieri pure sul marketing e che vogliono convincerti ci teniamo a dire ma che cazzo tieni a cea? Che cazzo ti frega di chi ti paga la bolletta? Porco il Dio! Sono robbio! Devo arrivare in vita a lungo, lunga vita a prescindere. Però in certe campagne me la posso pure accollare. Capito? Che ne so? Che te posso dire? Jean-Louis David. Qualsiasi cosa che mi viene in mente. Ecco, no, neanche San Benedetto. Devo pensare a delle cose più piccole, però ci sono dei marchi tipo Iginio Massari ok? Dei Victor c'è posso credere che lui pensa alla qualità del prodotto verso il cliente quindi lui tiene a mantenere alta la sua reputazione è vero, è fattuale. Capito? Ah, me la collo. Me la collo. Oppure il Cerbero nei confronti dei propri sub. C'è, me la collo. Ovvio, ovvio. Però, che la CEA neanche la cosa, capito? Che dici, oh, a Ferrarelle, a San Benedetto che già non c'è credo però ok, la CEA tiene a me. Sì, ne ha cazzato. Ma che cazzo tieni? Che non sai manco chi so. Sì, sì, e poi si ricollega pure al discorso che dicevamo ieri sulle multe esti onesti alcune aziende senza fannomi fa cose che non si possono fare e poi paga la murta perché ci guadagna nel triplo. Capito? Senti proprio che non c'hai il minimo controllo. Purtroppo pure queste cose vanno scardinate. Stai a svalvolare. No, o forse sì perché sto uscendo da quelle cazzo di cose che ormai noi diamo per scontate. Perché io devo dare per scontato questa convenzione stupida gentile cliente teniamo al rapporto non tenete a un cazzo via, rimuoviamo perché lo diamo per scontato che è una cazzata in questo caso chi se ne frega è una convenzione però nella vita attenzione a dare per scontato tutto. Perché diamo per scontato che la CEA tiene ai clienti non tiene a un cazzo non tiene a niente. C'è manipolazione in ogni cosa. Capito? Capito? Ci tengono che vivi che hai una lunga vita così gli paghi più bollette. Che tengono? Ma fa una cosa stupida cambiatela ora è desueta. Comunque potrai restare sempre aggiornato sulle novità del servizio senza spreco di carta. Oh, questa informazione è utile contribuendo così alla riduzione dell'impatto ambientale. Top! È la cosa vera e ce sta infatti meglio le mail o le pack del cartaceo di merda. Confermati mail tutto a posto mi devo pure registrare per darvi altri dati personali già ce l'avete che palle mi volete mannare se bollette o no? Ricordiamo che ho confermato l'ho confermato. Vabbè, una bella notizia. Nel senso adesso chiederò e pagherò ste cazze tre bollette. Il problema ripeto sarà trovare quelle pagate doppie. Vabbè, basta. Questo è il quantum. Il quantum mania. A proposito di nulla perché non c'è trancazzo ma tu hai mandato questo post di Flavio Raponi è giusto per qualcosa di completamente diverso. Volevo farlo vedere a voi ma a Marco in primis. Sto curioso, vediamo. Ah, perché ci sta un cappello. Ah, non ho capito perché perché lo volevi far vedere proprio a me? Vabbè, a voi, a tutti voi. a tutti voi, insomma. Mi fa ride sta cosa. È capito come inizia, no? Ti vedete. Vabbè, un chiaro omaggio possiamo dire. ma che significa? Lo so io che significa e mi sto per incazzare per la seconda volta in questa live. Per la CEA? Allora, siamo partiti col piede sbagliato oggi mondo però tu mi hai linkato questa roba qua io adesso la devo commentare certo quindi devo essere sincero e devo dire quello che penso su Flavio Raponi è un reel no, ma anche se un reel in sé tu fa finta che è chiunque allora facciamo così il reel bravo no perché il mondo purtroppo non è pronto poi magari dopo ci mettiamo la postilla allora il mondo non è pronto per certe verità una è stata parzialmente droppata sul mio Instagram su Luca Casadei ma il mondo non è pronto per la mia disamina tecnica sul podcast One More Time sulla sua conduzione perché tanto poi ti dicono ah ma invidia se sa di che eccetera però io voglio troppo parlare di Flavio Raponi perché premessa solida Lamarra mi sta simpatico ed è vero ci uscirei mi fa pure tagliare in certi casi però c'ho acciare tante quelle cose proprio sul canale perché mi vedo purtroppo tutti i video purtroppo e te giuro guarda mi dà fastidio non lui ma la sua fanbase però vabbè non ne voglio parlare oggi perché non non mi va questo questo tiktok reel è una merda ed è veramente indegno allora leviamo la solita roba ma ironico ok se è ironico fine discussione se volete la lettura levata alla patina dell'ironia potrebbe anche esserlo cioè nel senso non me ne frega un cazzo ma se è ironico è inutile discuterne cioè se dobbiamo se dobbiamo droppare e appunto se dobbiamo droppare la discussione sul fatto che è ironia non ne discuto perché sti cazzi ognuno fa come vuole non è quello se vogliamo andare nello specifico che la caption spiega ma ce l'ha scritto pure prima felice di essere stato cresciuto nel modo giusto allora qual è il problema ragazzi ne avevo parlato già con l'immaginario sigma sigma mail forse pure al cerbero ne avevamo parlato cioè questa roba qua è tipo abbraccia la mascolinità rigetta la modernità ok che cosa c'è c'è un ragazzo con le unghie finte vestito non lo so da uno stereotipo un po' così gayesco e poi c'è lo stereotipo del maschio virile no? quindi sparo sono muscoloso ma quanta repressione c'è in tutto ciò no è una cosa vergognosa per un semplice motivo che intanto banalmente che per quale cazzo di motivo dovresti ritenere migliore il tuo modello educativo nel momento in cui il primo esempio è innocuo è innocuo nel secondo caso il modello a cui si fa riferimento e fa riferimento anche Flavio è super tossico a differenza del primo super nocivo anche per gli altri cioè quello che dicevo io è ma è possibile che venga esaltato Arnold Schwarzenegger Chris Bamstead come modello il giga chad come modello in contrapposizione al gay con le unghie quando uno è super dannoso per la salute armi quindi dannose anche per gli altri e anche per l'uomo stesso cioè questa pretesa dell'uomo virile che non devi chiedere mai cioè ma stiamo scherzando ma se vogliamo parlare di condotta salutistica in primis cioè ma quasi sta meglio un ciccione di un Chris Bamstead ma pure sì ma perché per loro l'hai armi so per difesa cioè capito lui ti difende perché lui è buono ma quello che dico io è che è follia perché perché il mondo teitiano e non solo il mondo il sigma male purtroppo ha abbracciato un qualcosa che conosco molto bene che è il mondo quello del bodybuilding a volte ti mettono io sono gay I'm gay I'm lesbian I'm transsex I'm Ronnie Coleman che alcuni sono meme e fanno pure ride però quello che dico io è ma magari pure questo sarei ironico ok però l'immaginario è proprio idiota c'è Chris Bamstead dentro ma quindi Gianluca l'ha allincato per parlare di tutto questo beh penso di sì perché il senso mi sembra questo credo che ne so è una domanda penso di sì tu che ne pensi di sto ride se no parlo solo io scusate che sto sudicito ci dica che cosa ne pensa no no è molto interessante sono top secondo me pure per l'inquadratura finale anche tra le varie cose sì ma allora però sì il senso è quello ne avevamo parlato ci facevamo pure ride all'inizio proprio piano piano che poi è diventata una corrente dannosissima no ma infatti allora vediamo un po' se c'è The Masculinity la mentalità reject sempre esistita è quello no ma il fatto qual è che all'interno di questo immaginario ci sono anche tante cose meme che fanno ride tipo questa di Coleman era ironica ovviamente no però molte no cioè molte veramente dicono eh tu devi perché è anche legato un po' all'immaginario al mondo Red Pill cioè è per questo che Tate infatti ha preso anche tanto ma anche Peterson per un periodo cioè ha preso tanto pubblico con quelli di lì perché tu prendi il ragazzo frustrato che vuole scopare e non riesce a scopare e gli dai la speranza quello che abbiamo visto pure ieri nel video che ci ha fatto Vedessimo cioè lo plagi e gli dici tu sei non sfigato ma se lavori sul tuo fisico lavorerai anche sulla tua tempra e potrai scopare che è vero ma da qui c'è il passo successivo cioè il modello mio è Chris Bamstead che dentro sta morendo molto bombato sta morendo ovviamente e io non giudico quelle scelte lì a me piace anche il Mr. Olimpia non me ne frega un cazzo ognuno fa quello che vuole come chi se vuole ammazzate bamba c'è chi se far GH non me ne frega niente ma io non potrò mai dire questo è un modello da esaltare e invece il gay da disprezzare perché che schifo la modernità ma cioè è il modello più malsano è questo qua il modello sano eh sì lavora su te stesso non essere pigro queste cose sono banali sono giuste hanno aiutato tanto anche me però capite che è in controsenso a me onestamente faceva ride che all'inizio c'era un gay e poi c'era uno tutto muscoloso che è lui faceva ride per contrasto è sempre lui è Flavio Raponi ah che prima ah capito non ci ho capito niente allora regà ecco vedi oppure vabbè qua c'è il classico che viene messo in mezzo che ha avvocato no oppure Ziz cioè Ziz che ne ho parlato già in qualche live Ziz è un altro che si si dice c'è un problema cardiaco congenito eccetera ma è un altro che sappiamo che probabilmente probabilmente la sua morte in giovanissima età è stata quanto meno accelerata dallo stile di vita asteroidi notti discoteche cose quindi ma come potete prendere a modello cioè Ziz è un meme per me dei legacy ma non è una roba che veramente insegnerei a mio figlio ma proprio l'opposto cioè se fai quel tipo di vita sei un pazzo al pari di uno che si ammazza decotta dalla mattina alla sera nonostante faccia qualcosa che in teoria dovrebbe essere per la salute cioè il fisico quindi se lo fai fallo sono scelte due vuoi diventare uno del mister Olimpia vuoi essere un figo vuoi avere c'è il fisico quello che cazzo te pare non è un giudizio ma non è un modello da seguire per la società perché poi questi parlano alla società ai figli capito ah mio figlio non può essere ciccione mio figlio non può essere gay mio figlio che schifo trans era meglio ai tempi gay piate un po' di steroidi poi per il meme ci stanno molte che mi ammazzo dalle risate io ti fa vedere questa tipo è ovvio è ovvio che un obeso grave è super problematico ma te dico ma questi questo è magro vabbè che male ha fatto ma non sono mai esistite persone magre scusami capito ma mo questi saranno duple mobile ma che male hanno fatto vabbè stanno a far balletto ma chi se ne fotte tu non mi puoi mettere in contrapposizione con una roba che fa male cioè questi saranno ok secondo me questa è la stessa matrice del pensiero un po' dell'eugenetica nazista cioè pensare che c'è comunque una sorta di superiorità in te e vedi negli altri nella società e quindi nel prossimo un'inferiorità genetica che sono oggettivamente inferiori io ci vedo proprio tu dici genetica proprio sì cioè se vedi i commenti di questi video sono cioè questi qua sono dei subumani cioè c'è c'è molto questa terminologia subumani down insomma vengono insultati gravemente sì e dicono che queste persone rappresentano il declino dell'evoluzione umana quando in realtà sono magari delle persone brutte che sono sempre esistite sono abbastanza d'accordo secondo me l'unica differenza è che appunto c'è qualcuno che ti promette la possibilità di entrare nei ranghi dal tuo esempio nazisti cioè non è solo un discorso di stirpe poi c'è un leader di pensiero che invece ti fa diventare un chad che altro non è che un ariano cioè uno uno che conta mica un weakling mica un deboluccio esatto però appunto dicevo forse quello che dicevi cioè l'esempio è anche relativo al tuo sangue che non puoi mutare perché tu sei di quella stirpe in questo caso puoi se segui i consigli del maestro cioè puoi uscire dal rango degli ebrei nell'esempio figurato di Simone puoi uscire da quel rango ed unirti al quarto no sì nell'esempio poi certo anche nel regime ovviamente nei regimi in generale sono successe queste cose tipo decidiamolo chi so gli ebrei per dire gli ebrei utili ovviamente sono stati utilizzati pure dai regimi nazisti certo però magari qua è meno un discorso genetico di stirpe di provenienza più di sì questi sono veramente la feccia della società però ecco in questo è comune la feccia della società e vanno estetico poi pure molto estetica non conoscendo Zizio non so dire se è un modello positivo o meno però posso dire questo ha creato degli emuli palestrati che ascoltano la style di pessima qualità ok su Zizio poi faremo una live non mi ricordo forse ne avevo pure parlato ma era una roba troppo di nicchia che non mi va di rompere i coglioni c'era la colonna sonora mi ricordo che era quella beh sì lui era molto art style house tecno sì sì dopo ballerino infatti poi c'è la parte per questo vi dicevo che attinge molto anche dalla red pill poi queste cose mi sono fissato perché mi interessano c'è tutta la parte che ha preso anche Tate e altri guru a parte odio holyfans odio egaost dice così vedi mental health che scrive il sentimento di disgusto era quello che ha spawnato il pensiero d'odio di hitler e questo lo dicono degli psicologi che hanno studiato appunto il pensiero di hitler e secondo me queste scusate il paragone ma mi piace è molto estremo ovviamente però mi piace appunto sta metafora secondo me questi video sono volti a generare disgusto no? sì verso una categoria o uno stereotipo sì proprio semina odio assolutamente ma più che guarda allora l'intento di questo video l'odio da cosa nasce la sentiste superiore allora secondo me le letture sono tante cioè l'intento singolo ovviamente non lo so del creatore del video del video x del guru y quello che penso è che di base sì uno sono migliore di qualcun altro che è un sentimento radicato nell'essere umano mi metto una spilletta diversa ho un colore diverso perché sono migliore mi metto un abito migliore perché sono migliore ok faccio parte di una razza che io ho deciso essere migliore no razzismo tutto quello che ovviamente conosciamo nell'umanità questo specifico caso si è creata questa divisione perché sì ci sono stati vari guru che hanno o che facevano parte di un sentimento di repressione come la red pill quindi ok abbiamo questi problemi sociali perché il maschio adesso subisce c'è la donna comanda poi per gamare l'uomo no eccetera e quindi anche loro da da incel magari sono riusciti a convertire quel sentimento in qualcosa di più creativo oppure è semplicemente gente che magari alcuni hanno fatto in un certo modo per sottolineare anche delle differenze col passato eccetera ma comunque è diventato un movimento gigantesco che va ad incensare una presunta condotta di vita legata alla disciplina che però agli estremi di una disciplina che è malsana certo deve essere disciplinato devi fare pure tre punture al giorno del sosterone però cioè non è una cosa che salterei come l'arma come l'esercito e quindi ritornare al passato no e aggiungo e qua ci sarebbe anche una postilla interessante da fare sul capitolo Islam che dentro questa equazione gigantesca sto calderone di roba c'è pure quello di cui abbiamo parlato un po' delle puntate fa cioè il fatto che l'Islam sia la religione più cool al momento e non solo per un discorso di popolo che ovviamente si sta espandendo la religione che si sta espandendo anche all'interno di questi contesti ci sono influencer che fanno propaganda solo della religione islamica non è una critica all'Islam cioè è per capire anzi forse è un elogio all'Islam perché è l'unica religione che si è riuscita ad adattare rimanendo integra cioè si è adattata ai tempi perché è rimasta integra e tu vedi che ne so Rondo vedi Andrew Tate tanti influencer che esaltano l'Islam è trendy perché secondo me per vari motivi in primis perché è credibile e perché conferma degli stereotipi legati alla donna all'uomo forte cioè per tornare al perché secondo me anche perché l'uomo si è sentito devirilizzato sono crollati gli stereotipi non riesce più ad identificarsi con il cristianesimo perché non ha più un'immagine forte anche il papa fallisce nel rappresentare proprio niente esatto quindi sì è un modello più mascolino io penso che l'uomo in generale proprio nel globo si sia sentito depotenziato per questo ripeto che torniamo allifans redpill depotenziato poiché con giustamente l'apertura e la distruzione di alcuni stereotipi ha perso tanti vantaggi dal famoso patriarcato però ha mantenuto alcuni scam tipo la selezione sessuale che è principalmente femminile le solite cazzate le donne scopano tutta la parte redpill e più è entrata l'equazione allifans che è potere monetario oltre che sessuale unito cioè potere monetario perché c'è stata la retorica che allifans facevano tanti sordi balla tra l'altro poi voglio dire anche una cosa ricordatemelo su i commenti colletto dei curulanti ci sono un sacco di video di questi podcast americani dove si insultano queste sex worker dove le si dà proprio delle ritardate scusate il termine e queste qua e sono anche tagliati in modo tale da far vedere che abbozzano secondo me gli rispondono pure perché secondo me il maschio si è sentito in difetto e già l'immaginario red pill black pill aveva questa cosa ma c'è stato poi ripeto il capitolo allifans tant'è che queste cose sono aumentate tantissimo dopo la quarantena quindi c'è stato tutto il capitolo allifans che ha dato una percezione oh ma ste donne oltre a poter utilizzare la loro fregna facendo leva sulla mia solitudine sul fatto che io da uomo adesso so scammato perché non posso più avere il potere del patriarcato in più fanno pure più sordi di noi quindi siamo finiti non abbiamo più potere e tutto sto malcontento generale dell'uomo ha portato alla ricerca di un nuovo modello da prendere come esempio come guida come via per questo che io ho definito sia tweener che tate capobranco degli incel e il povero tweener si è messo a piangere la tua ragazza folli fan proprio confermando la mia definizione perché sono quei guru e in Italia abbiamo quelli che ci meritiamo i vari carus e tweener purtroppo la tristezza tale però ognuno ha quel tipo di guru che si merita però Andrew Tate anche la sua esplosione non è che è stata casuale perché perché parlava quella lingua cos'è Andrew Tate è un modello come diceva anche ieri Simone un padre per gli uomini che stanno avvertendo questo depotenziamento all'interno della società e come entra l'islam in questa equazione l'islam tocca molti punti patriarcali a voi patriarcali che sono presenti ho linkato ho linkato il video a cui mi riferivo che è uno short di youtube se poi vogliamo vederlo un attimo allora ragazzi mo qua è un macello le holyfanser monetizzano sui morti di figa mi dispiace Erminio allora già abbiamo fatto esatto si parla proprio di holyfanser ok lo apro subito se non vuoi aprire Whatsapp c'è Erkertitolo comunque il discorso pure dico solo una cosa se non mi scordo sul fatto di holyfanser nessuno ha negato le responsabilità sono stato io il primo a dire grazie Topolino ho detto anche adesso vai se riesci ho detto anche adesso per colpa di quelle che hanno sparato cazzate sui soldi eccetera l'abbiamo fatto mille volte ragazzi ve prego non ricominciate con la vostra repressione holyfanser lo sappiamo l'abbiamo detto mille volte non è un discorso di colpevolezza qua non sto dicendo è colpa delle donne è colpa degli uomini che sono stupidi è colpa degli inser che non scopano l'evidenza che io ho notato in questi anni mi sembra strano che non se ne parli pare che li obbligano dico no no ma ma non è neanche quello cioè avrebbe fatto un discorso che io non sono neanche in grado di fare perché non ho abbastanza cultura ma bisognerebbe prendere tantissimo per parlare effettivamente del perché siamo arrivati a questo punto e già Simone per me l'aveva riassunto bene con il mercato della solitudine e là bisognerebbe andare retroso perché si è creato questo mercato perché 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 domande che dovreste fare a sociologi quello che dico io è che è evidente e sono abbastanza stranito del fatto che non se ne parli nel mainstream o influencer anche in Italia ne parlino in maniera competente anzi forse lo so perché perché è più facile fare una delle due fazioni quindi o sono LGBT o sono il Metcarus Twinner Cringe perché prendi un modello che è facile da replicare ovviamente ragionare sulle singole cose senza urlare o l'infanz è colpa oppure è colpa di questo degli inser è colpa degli inser senza contestualizzare è più facile chiaramente e soprattutto cosa succede? crei un branco per chiudere le religioni levate alcune beh il buddismo che poi non è probabilmente una religione intesa come piena di idoli eccetera le religioni hanno una matrice patriarcale ovviamente quelle che sono rimaste non tutte ne parlo di Gaia però anche il cristianesimo diciamo più che il cristianesimo i dettami dell'antico testamento ovviamente si basavano sull'uomo poiché scritti da uomini quindi non è solo l'islam ma anche l'ebraismo per certe cose però qual è la differenza? che il cristianesimo si è depotenziato già il cristianesimo se vogliamo il nuovo testamento è un depotenziamento dell'antico testamento più cazzuto però negli ultimi 20-30 anni la chiesa si è depotenziata tantissimo perché si è dovuta adattare ad un mondo occidentale che si apriva e quindi la chiesa se una volta diceva gay no mo trovi il cardinale che lo dice e viene spernacchiato dal papa stesso quindi la chiesa ha tradito dei valori ha peccato di coerenza dei valori di merda misogine anche ma è così ha peccato di coerenza mantiene delle cose tipo si e donne possono fare suore ma non possono essere papa non possono essere vescove ok però mantiene delle identità che però ogni tanto vengono capito riscritte come di sì vabbè i gay cioè stanno un po' sul cazzo ma alla fine chi se ne frega sì vabbè i trans ok sì vabbè quelli che si sono separati ma non fa niente quindi negli anni hanno fatto concessioni per continuare a mantenere un potere costituito al Vaticano perché il Vaticano come tanti altri organi che hanno rappresentato questa religione che hanno fatto sono scesi a patti con gli stati e anche con lo stato italiano che prima leccava al culo al Vaticano senza problemi democrazia cristiana eccetera poi dopo un po' hanno detto sì ma qua non ce ne votano più perché si è depotenziato quindi pure loro sono quattro vecchi ormai capito quindi pure loro si sono adattati coi tempi ma anche perché se no non funzioni più no? e c'è Don Alberto e anche lo stesso Papa è quello ragazzi l'ultimo Papa è bello è bello swaghino mica è come Ratzinger che sembrava Palpatine anche se io ripeto Ratzinger vero Papa Ratzinger è stato l'ultimo vero Papa però vabbè lasciamo sta persona colta incredibile coerente è stato mandato via per la sua coerenza a delle robe che per me sono folli ma che rappresentano la religione che lui stesso doveva in teoria portare avanti e invece come mi ha detto il buon Rondo ma tanti altri la religione cattolica con alcune derivazioni poi minoritarie testimoni di Geo altre cose ok però di base la religione ha perso potere in occidente quella lì e allora andiamo dalla religione islamica che quanto meno è credibile nelle sue follie anche anche nei suoi estremismi anche nei fondamentalismi però mi dà un modello che io posso prendere e quindi la donna col velo e quindi questo e quindi quell'altro velo invece qui abbiamo una religione che accetta seppur un po' così la donna che va in giro che hai detto di fuori e chi è che non l'accetta sta cosa quello che rusica perché quella va in giro che hai detto di fuori allora io voglio andare in giro col mio cazzo di fuori proprio l'obiezione alla Marco Buono posso mettere le palle un po' cioè questa è la stupidità capito non è che te fanno una riflessione come questa potrà essere una rottura dei coglioni e me ne scuso ma quante cose si potrebbero ancora dire ma dov'è che si pratica questa religione delle tette di fuori perché sarei molto interessato a convertirmi è il chitanesimo ecco il video che hai linkato narra vediamo un po' quando vuoi reactions eh no vabbè sì stavo a dire una cosa prima sul fatto dei redpillati ma una cosa proprio in secondo non so se siamo persi era sul fatto che comunque è proprio estremamente maschilista già solo il pensare che è un problema che ora comandano le donne cioè anche se adesso le donne avessero un po' più potere di prima in alcuni casi una donna può comandare che cazzo c'è di male cioè è proprio maschilista solo fosse venire il fatto che sia un problema è una paura è una paura è una paura intrinseca vuol dire che sei un maschilista perché l'uomo ha sempre comandato capirlo l'uomo ha sempre comandato con eccezione magari della casa ecco capito in casa lo accettavi non è giusto avere c'è lo potere è così cioè nel senso l'uomo da sempre nella storia moderna ha governato ha avuto le posizioni di potere ha avuto il potere economico non ha avuto magari il potere sessuale però vabbè sti cazzo il potere sessuale me lo compro col soldo con lo status capito cioè comunque era una dinamica accettabile adesso che è stato messo in dubbio anche il potere sessuale perché è economico perché è decaduto lo stereotipo dell'uomo che portava i sordi i sordi il pane a casa e la donna che giustamente doveva ricevere mazzate tipo stile palermitano che si cagava stava tutta cagata perché non lavorava e stava a casa quindi al massimo l'uomo accettava le disposizioni domestiche si non usavi il centrino però tanto mi scopo altre 40 freni fuori da casa mentre mi moglie sta qua con i marmocchi che cazzo mi frega ma collo che è una pesantezza che ha la lavatrice no? esatto e mo ci usano altri modi per sminuire le donne come questo tizio che non è altro che un Andrew Tate ma neanche dell'Eurospin proprio del Conad che no aspetta che è un tizio che sa mettere due tre parole di fila e cerca di intortare una ragazza che fa OnlyFans mo tanto il trend è questo no? e tutti i maschietti dei tuinerini ovviamente che si identificano con questo Andrew Tate fasullo tifano per lui non so se mi state capendo sì 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 ma in realtà la dinamica la dinamica sociale è semplicemente un tizio che vuole sottomettere un'altra persona con la parlantina con una logica sua che in realtà non regge se solo davanti ci fosse un'altra persona ancora più incazzosa di lui e magari bravo con le parole come lui però purtroppo questa ragazza dato che fa OnlyFans magari la dialettica non è tra le sue skill e quindi abbozza sembra magari hanno pure tagliato la risposta ma magari l'hanno scelta apposta pure signor Narra probabilmente anche verissimo e io ho notato pure dei fake podcast che la sua logica per intortarla è fallace e ora lo vedremo tutti insieme sì ma hanno visti tantissimi così come dice Marco secondo me la scelgono in quanto rappresentante di quella categoria magari neanche Nacima a livello di dibattito e punto però come diceva Narra magari è una persona che fa altro ma perché se uno prendesse un maniscalco ignorante come una zappa però bravissimo nel suo lavoro sarebbe da disprezzare ma che cazzo vuol dire è una persona che fa un altro lavoro allora io lo uso lo porto in un podcast per dimostrare che tutti gli zappatori sono dei coglioni cioè poi magari c'è quello che è più colto dell'intervistato comunque vediamo a livello in the marketplace don't worry I'm not really talking to you I'm speaking against you as a symbol a symbol of what a symbol of a declining society where people lack values so the point is this if you had IQ and skills to offer to the marketplace you can earn a good income being that the most valuable thing about you is something that you never earned you didn't earn knowledge you didn't earn skills it's your breasts that you paid for and your butthole so you mark it it's your buco di culo e le tue tette ma si ma ho proprio capito il classico stereotipo se prendessi il tuo cervello e lo mettessi su un uomo saresti inutile cazzata enorme come se una only fan non usasse il suo cervello banalmente proprio per per lavorare in quell'ambito che come sappiamo non è semplice per niente è ovvio che utilizzano il loro cervello e devono pianificare ma si ma poi proprio capito che ti mettono lo stereotipo della gallina che non sa fancazzo non hai non hai quoziente intellettivo no lui che parla pure magari quella parola chiave non hai valori valori infatti appena ho sentito valore ho fatto proprio mamma mia cioè non ce la faccio più pure questo concetto di valore valore è una cosa di valori abbiamo perso i valori ma quali 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 esatto vuol dire valori così solo come arma retorica per romper i coglioni i valori non sono altro che convenzioni di una solitamente maggioranza di persone in un determinato contesto storico è un allora spesso è un mettersi d'accordo in altri casi è imposizione di un qualcosa è il valore fascista quello è il valore è il valore nazista è il valore della stirpe capito migliore è un valore sì è un valore il valore del rispetto alla regina al re è il valore del patriottismo è bravo sono tutti o indotti per qualche motivazione oppure generati dalla collettività per paura per xenofobia che ne so il razzismo la xenofobia anche primordiale tra tribù era un valore tipo difendi la tua terra dall'invasore boh rosso il problema è che lo stiamo ancora facendo ma dovremmo trascendere ormai questi retaggi animaleschi forse eh e tra l'altro quanto fa ride il valore per antonomasia grazie a Xaxo che più ha creato problemi all'uomo e d'altro canto anche necessario per mediare alcune cose il valore del denaro è principale qua comunque ma che è successo? eh no mi sta arrivando aria caldissimo ho levato una cosa che fa io l'ho un po' aperto vorrebbe arrivare a più aria sì sì se traduci un attimo bene che ha detto qua sul finale se prendessero il tuo cervello e lo piazzassero nel corpo di un uomo tu saresti povera come se ovviamente anche se essere poveri fosse una colpa no però insomma è per dire che sarebbe inutile che quello che fa è facile solo perché ha le tette e un buco di culo sappiamo benissimo che è una semplificazione banale sì ma lo potresti di pure da un grande atleta magari maschio bravo 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 prendimi il calciatore magari il calciatore è un coglione tanti insanno fa due più due però se prendessero ma perché fatti pezzaci perché questo esempio è sempre rivolto alle donne perché il cazzo di maschilismo muove tutto in realtà è solo quello faccia caso sempre rivolto alle donne non ti viene mai da dire non è che totti senza quei piedi sì che ragionamento è se trasferissero il cervello dei totti in un altro corpo magari non lo so che cazzata bravo chita sì perché l'imperlino vedi io pure da uomo non ce penso cioè non mi è venuto intuitivo non mi è venuto magari io non lo so però magari Michael Phelps è un coglione magari no però per dire un grandissimo atleta nella storia cazzo è un ritardato o peggio uno psicopatico killer capito però infatti non ce roda il culo non ce roda il culo bravo non ce roda il culo è una donna tu stai sfruttando gli uomini ma di che sono i uomini che pagano perché vanno pagare nessuno è sfruttato ma che cazzo ma poi cioè proprio ripeto la costruzione poi sto questa è una clip ovviamente montata da arte che ha musica sigma sotto lui che droppa la cosa incontestabile cioè io sto sicuro che romperemmo il culo a sto dizio in tre secondi dialetticamente 100% ma mica perché siamo di geni perché semplicemente sono strumentali questi contesti però ripeto è anche di una presunzione levato il discorso all'ifans donne estetiche di una presunzione allucinante di una divisione stupida quello che accennava Simone intanto uno il tuo valore non è che è dovuto a quanto guadagni perché pure questa è proprio una puttanata cioè che cazzo vuol dire non è che anche tutto questo legato al successo al soldo cioè questa è persone che si sentono inferiori che devono capire c'è la dimostrazione tipo ehi guarda che c'ho sta cosa qua ma è più per loro che per l'altro e quindi la ostentano esatto chi sta veramente bene con se stesso sta tranquillo esatto no quantum è il contrario prima di rompergli il culo dovresti imparare l'inglese no no al contrario lui che deve imparare l'italiano non ho capito ma chi ha deciso giusto non ho capito se no gesti o quei disegnini ma se capimo no no ma anche basta questa cosa se famo capire questa imposizione ecco torniamo a un valore importante la lingua italica per esempio questo non è male vedete che poi ognuno se sceglie il valore che preferisce che fa comodo alla propria pigrizia io sono magari pigro non voglio impararmi quella meglio l'italiano è il valore della lingua italiana è una roba pigra egoistica porca puttana l'ho pensato che mannava di studiare mo ve dico no allora proprio sul discorso dei soldi ieri ho avuto l'idea malsana di guardare in realtà non appositamente però di guardare i commenti sotto una clip del sottoscritto a Gurulandia che hanno ricaricato una clip dell'intervista mia e c'era la classica domanda ovviamente là parlano dei sordi no ma quanto guadagna Arcerbero e ho detto una stima più o meno 25-30 mila euro al mese poi c'erano dei mesi in cui abbiamo fatto di più altri di meno poi dipende ci sono i parti c'è Twitch avevo spiegato prima non dicendo subito la cifra perché non me ne frega un cazzo non ho problemi a dirla però avevo spiegato un po' come lavoriamo noi quindi un po' con YouTube cioè le divisioni su Twitch pubblicità sub donazioni su YouTube uguale gli eventi dal vivo che ne so gli sponsor insomma un po' più o meno ho detto più o meno facendo una media negli ultimi due anni quella è la cifra media mensile no? e commenti ti giuro sì la roba che sono rimasto stunnato cioè ah ma così poco ma mi aspettavo di più ah ma guarda stico io io tipo altro influencer di X a casa ah guadagna molto di più da solo ah ma come fate con cinque persone io per lì ho pensato ah uno ma che cazzo ve ne frega tra l'altro due tanto se avessi o questi si basano sulle cifre false che la gente spara perché poi ho detto così netto tra l'altro non come dicono molti fanno 50 mila al mese scusami no lordo ho detto molti che dicono sì sì faccio 50 mila al mese sì certo se impaghi le tasse bravo impaghi le tasse impaghi in cazzo impaghi i contributi sono buono pure io però c'è gente che le spara grosse per farsi il figo ovviamente per far vedere che guadagna tanto che se compra il macchinone per far vedere che guadagna tanto e ho detto una cosa vera cioè ho detto una cosa normale come funziona una micro azienda facciamo il nostro poi ognuno di noi c'ha pure altre entrate cazzi loro ma cazzi nostri ma addirittura il giudizio su guadagnare poco è proprio sbagliata la premessa che mi fa incazzare che non è mai stata quella io personalmente e parlo da Mr. Marra ma posso parlare pure da Tutubi che mi ha dato il permesso non ho mai fatto questo pensando a quanto avrei guadagnato ve lo giuro e voi che mi conoscete lo sapete ma penso nessuno di noi quindi noi andiamo avanti con altri obiettivi magari più creativi però c'è è proprio un discorso che con noi non attacca no zero ma infatti mi sono stupito perché l'ho letto pure in chat mi sono stupito non perché fossero commenti brutali eh che hanno detto chissà che no ragazzi 25.000 del Cerbero non di me solo o di noi soli ed era una media ripeto ci sono mesi che può essere 40-50 altri 15 ma non è quello il punto come diceva Simone cioè intanto partiamo da un presupposto guadagniamo tanto per la media tantissimo e io sono grato al signore se esiste visto che ho parlato di religione di guadagnare così tanto con una cosa che amo ma tutti di cioè ma veramente tutti noi abbiamo fatto pure i lavori in cui ci hanno pagato veramente 3 euro all'ora 6 euro all'ora cioè intanto uno è una fortuna oltre che un merito quindi anche questa roba del magari prendere per il culo gente che secondo l'ottica di questo malsano immaginario guadagna poco è stupido cioè secondo me guadagno tantissime sono già grato al al fato e oltre che a me stesso a voi e a tutte le persone con le quali ho lavorato quindi già sta cosa è sbagliata in principio ma quello che mi son detto io vedete dove è arrivato in maniera sibillina questo pensiero di merda del vendervi il sogno americano del vendervi il successo cioè se io avessi detto ah milionari siamo milionari come Big Luca e si collega pure alla live di ieri saremmo stati un po' esaltati un po' ah vabbè però stai a flexare quindi non te la capi in nessun modo però ovviamente il modello venduto anche da Andrew Tate mostrato ieri con le chiavi dalla macchina e devi essere ricco in questa società devi essere ricco devi essere ricco così il poveraccio che ovviamente è un poveraccio che ha scritto là sotto telecarcura il poveraccio in termini economici non moralmente e mi dispiace per lui perché non è non è che magari è una sua responsabilità magari è una sua responsabilità ma magari no poverino cioè è anche casualità quello che fa quello che si incazza perché uno guadagna poco secondo lo status percepito del Cerbero è uno che ovviamente sicuramente non sta bene con se stesso perché dovresti porti sto dubbio e in più secondo me una persona che non ha mai lavorato perché poco è una piccola società che fa il suo ogni mese e che comunque va avanti riesce a fare tante cose però capite che da una domanda banale fatta in un podcast in cui parlano dei sordi quindi ho risposto ovviamente non c'era tutta la parte di spiegazione per far capire come funziona sto mondo che è la parte più interessante secondo me del freddo numero è come noi arriviamo a portare a casa quella cifra grazie a quello che facciamo grazie a voi grazie agli eventi e tante cose però la gente capito forse anche perché vuole insultare quello che dice guadagno tanto quando leggono ah Grimbaud ha detto che guadagna 40 mila ma come sto coglione io ma come fa è possibile cioè non lo so perché non lo so perché non lo so questo è il punto capito ma quando si parla di Holyfans ancora a Feldu basta sono tre ore che stai a parlare Holyfans basta ripiate a livello imprenditoriale abbiamo fatto tutte scelte ottime ci siamo professionalizzati abbiamo preso lo studio se se avessimo voluto massimizzare il guadagno saremmo dovuti rimanere in cameretta e magari andare alle proprio alle canarie tanto per cambiare sì e magari diventare come studizio del podcast come ideale a noi ci interessa investire nel prodotto anche in cose nuove di più parti sul territorio italico dove paghiamo pure un sacco di tasse quindi è chiaro che vendere il sogno americano in Italia sei scemo cioè sei proprio un povero illuso se pensi di poterti arricchire in quel modo esponenziale in Italia fallo ma inevitabilmente dovrai fare qualche merdata dovrai scavalcare qualcuno o qualcosa se vuoi vivere bene secondo me ed essere fiero di ciò che fai non devi avere il pallino del guadagno esponenziale all'americana proprio ti fa condurre una vita a rincorrere le lucciole però diventi uno scemo secondo me ma infatti secondo me per chi non avesse visto la live di ieri alle 21 dovete anche recuperarla perché quello che stai dicendo si applica perfettamente ad una parte delle critiche che abbiamo fatto a Big Luca cioè Big Luca fa proprio questo ti vende il sogno dell'estrema ricchezza il più milionario di Dubai c'è sta gente che proprio lo stipendio che si fa a Big Luca in un anno lo fa in tre secondi però mi fa troppo ride questa cosa c'è gente che la compra Cristiano Ronaldo e lo mette in giardino però se lega a questo cioè lui ti vende sto sogno non pagando una lira di tasse non pagando l'IVA come ha scritto pure alcuno vabbè non è che è un obbligo morale no no ma per carità non è questione noi siamo migliori non me ne sono mai detto ognuno fa le scelte che vuole per me magari pure Blu l'ha fatto pure bene ad andare a essere in Portogallo ma per carità di Dio quello che dice Simone e che confermo è che cioè ovviamente noi guadagniamo bene per i nostri standard per i nostri obiettivi ma diventare ricco in Italia con il nostro modello che facciamo non è possibile non è possibile anche Blur che è il numero uno nel nostro settore è dovuto andare lì non solo per quello ovviamente c'era avuto altri interessi però per dire e fa una barca di soldi giustamente per il suo lavoro ma perché perché è un sistema di questo tipo però non è che noi siamo più bravi degli altri ma quello che dico io è che noi non andiamo a dire agli altri siete meno bravi se andate a Dubai o in Portogallo chi cazzo se ne fega quello che diciamo al Big Luca di turno è infatti a Blur che ha mai criticato per quello o Marzo e ripeto non lo so magari non è manco per una questione fiscale o manco solo per quello sicuramente non solo per quello però chiunque faccia sta scelta cioè nessuno la critica la cosa problematica è quando tu Big Luca vendi un modello su un mercato che non ha quel tipo di configurazione fiscale territoriale dicendo io sono il più ricco di voi poveracci coglione paga le tasse coglione X intendo persona X che ti dice sta cosa il fuffo a curo che te sventola la Lamborghini eh sì amico mio ma se la compri con la società so buono pure io però funziona così capito in Spagna non è che c'è tutto questo risparmio no no ma è per dire ragazzi sono esempi però per dirvi che non è un problema scegliere anche una configurazione fiscale migliore ma poi che problema c'è cioè che ne so Masseo o anche Alex cioè che stanno in Svizzera si trovano pure meglio magari ma mica è un problema raga il problema è vendere fuffa cioè dire agli altri eh voi siete proprio degli sfigati perché state qua in Italia a far business invece io sono riuscito ecco come ci sei riuscito però dillo fai vedere i bilanci amore mio non che dici non ve li faccio vedere perché non è obbligatorio ma che vuol dire che vuol dire se mi vendi quel sogno stai nel tuo interesse in teoria invece no non te li faccio vedere perché me lo permette lo scudo che io mi sono scelto beh se te lo sei scelto per cazzi tuoi leggi mica gli altri sono costretti a sapere ma se tu vendi quella roba che scudo ti metti testa a pera capito quella è la cosa che fa trigger è questo comunque se un tizio proprio avvelenato bro però calmate un attimo con le storie cioè no sta avvelenato che non vedremo non vedremo quindi proprio tranquillo è tipo Rubino torniamo un attimo a B no no esatto grazie King ah Chidano ha proprio imparato ma io non posso più parla di Rubino perché sennò si arrabbia no no basta basta lo cuori per Rubino basta non ne parlo più se non in termini incensanti assolutamente un sacco di giganti rubino di roba brusli l'américa Come use the cup, you put water into a bottle, if you come use the bottle, you put it in the Cina da che c'è una figura coatta femminile è vergognosa La water can flow, how I can crash Be water, my friend American Psycho che è un altro sempre utilizzato Psicopatico Sì, sono praticamente dei nerdi riscoglioniti Se sono visti American Psycho, non l'hanno capito Esatto, io ci ho fatto un video su sta cosa 300 poi Tutte le figure paterne Sì, sì, film più maschilista Addirittura, c'è 300 Lasciamo perdere sto video, altri ripeto Levate il discorso meme, regà Il discorso è morto in principio È inutile che fate Non serve a un cazzo nella discussione 300 è proprio il condensato Maximo della tossicità No, no, ma non parlo solo di qualità cinematografica Pensateci, abilista Ha storia pure È abilista in primis Perché Fialte è la merda del film È lo snitch In quanto brutto Ok, quindi prima cosa La società spartana era abilista di per sé Sì, sì, ovvio Ovvio, ovvio, però Nel senso Levato dal discorso storico E viene invece incensata Erano dei pezzi di merda Secondo me i spartani Capito, ma poi Fosse in fila A vederlo oggi come una cosa fattibile Ma poi la cosa No, ma poi è molto Cioè, è ovvio che se tu fai un film Che si basa sulla storia Non è che abbracci magari quel pensiero Qual è il problema? Uno che storicamente ne ha curato per una sega E hanno preso solo delle parti Che servivano a loro E in più è il pensiero del regista Che fa la differenza Cioè, il messaggio Che quel film veicola Attraverso una cosa magari vera Come la rupe Che ovviamente c'era Però O la selezione In certi contesti O l'epigenetica Che si citava prima Però Cioè, lì Lo snitch È il cesso Il gobbo Gobbo storpio Quelli che lanciavano De sotto Da O scoglio Se nascevi Quello che non hanno lanciato È tratto da una graphic novel Ma pure se nascevi gracile Un po' più macro Biamano Te lanciavano Da O scoglio È tratto da una graphic novel Che fa cagare Anche quella Di Miller Fa schifo pure quella Infatti Però Rip Mattarella Ma il cazzo stai a dire Grazie È caduto sul lavoro Però c'ha tutto Cioè C'ha Abilismo Macismo Tipo la donna Che sta lì Che sta accanto al re Che tipo Troppa pure la frase Tipo No perché io sono La regina Sono la donna Di Leonida Cioè non è che è lei In quanto lei No? Capito? Poi c'hai Un po' di razzismo pure Senta di che Leonida dice Avrei potuto portare le mie donne Per combattere Contro i vostri uomini Sì vabbè Quella c'è stata Quella è una bella sigmata Era una bella sigmata Però Comunque è proprio il film Classico Proprio di chi ama Ste cazzate E poi spoiler Cioè nel senso Top modello Addominali fatti con l'aerografo Sì è tremendo Che poi si Freghava un cazzo A Come che si chiama? Il poraccio De Gerard Butler Rimasto dentro quel personaggio A vita Cioè ormai può fare solo Sti film Proprio da patriottici Ridicoli Che deve far Attaccar potere 1 Attaccar potere 2 Aiuto l'America di notte Mentre ritrovo mia figlia 4 Cioè ste cose ridicole Hanno distrutto Sì però Liam Neeson Sai ha fatto talmente Tanti film E talmente bravo Guarda io ho visto Dei pezzi su Probabilmente dei 300 Però ho visto pure il best of Così per curiosità Ci sono dei momenti Che poco prima delle scene Tutti quanti si piegano Fanno tutti i piegamenti Tutti i addominali Che gonfiasse Sai quando Subito dopo sei gonfissimo E poi mi ha fatto Su gonfi Azione Vabbè certo Ma non solo Vabbè quello c'è stato Tutti i gonfi Oliati E in più c'è pure la post Oliati E quelli con l'aerografo E in più post produzione Vabbè c'è stato Nice Guys Nice Guys Bellissimo Sì bellissimo film Di Buddy Movie Ehm Ma poi vabbè A parte questo fa schifo Come film Al di là dell'immaginario È proprio orribile Arnold Che fai Poleman Oddio santo Oddio cos'è Ma mo veramente A molla Per questo fa a molla Mo veramente Allora Pure gli strongman No Ma che è sta cosa Che sono tipo Eh sì Cioè Sono tipo Allenamenti di uomini Ovviamente fortissimi Cioè Ma anche questo È un modello super malsano Al di là delle bombe Ok perché Leviamo anche le bombe Nel contesto strongman O powerlifter Ah meno male Meno male Ah meno male Meno male E Leviamo il contesto bombe Cioè anche quello Cioè sono persone Che comunque Di base hanno Un peso corporeo gigantesco A volte sono anche obesi O fortemente in sovrappeso Sì sono fortissimi Ma comunque pure questi C'hanno un danno organico Della madonna Anche chi non si è bomba Senza contare i danni Che te procuri Con gli allenamenti Di questo tipo Stesso Ronnie Coleman No Che qui lo fanno vedere Cioè Ecco Vi faccio un esempio Guardate Coleman Qui no Porca puttana Questo è un modello È uno forte Un uomo forte Ronnie Coleman Amici Miei È anche questo però Ed è uno che ha subito Tra l'altro Pochissimi danni Per il discorso Bombe Che a quanto pare Il suo organismo Ha resistito da paura E lui non c'ha avuto Danni grossi Ecco Ronnie Coleman Oggi ragazzi Ronnie Coleman Was spotted in public And still has A positive energy He always had La parodia Si è bombata Serge Nubre Ed è morta in piena salute Cioè nel senso stava bene Anche fisicamente fino all'ultimo Però capito Tu prendi ecco Flex Wheeler Il più bel bodybuilder Di tutti i tempi Perfetto no Sembra una scultura Ha vinto tipo tre Olimpia Tre La 28 Ronnie Coleman La 28 Le cosce Se schiaccia le palle Le scoppia Ok Però Sto voraccio Poverino Ci ha avuto problemi Anche alle braccia Alle gambe Problema anche Disfortunale Le braccia Per il sintolo Che poi si è dovuto Fa sportare Quindi ha anche Responsabilità sua Però per dirvi che Cioè Sapete Quando tu metti Quel modello Dovresti anche Aggiungere Che quel modello Porta tante Possibili conseguenze Problemi di natura Cardiaca Respiratoria Allenamenti di quel tipo Le possono procurare Nella migliore Delle ipotesi Che ne so Una produzione Nerni E nella peggiore Le possono creare Dei problemi Poi Appunto È difficile anche Capire i rapporti Causa-effetto Per esempio Dolph Lundgren Dolph Lundgren Dolph Lundgren No? Vi stavamo parlato Pure un po' di cinema Che è Ovviamente Una sacca di roghi Il drago Io andrò Lui c'ha avuto Un sacco di problemi Di salute Nel corso della vita Anche tumori Al cuore Sì c'ha avuto Un sacco di problemi Di ogni tipo C'ha avuto tipo Tre tumori Un casino E lui Proprio in un'intervista Dice Io non lo so Non ho la certezza Non posso averla Perché è difficile Capire il rapporto Causa-effetto Magari Sarebbe comunque Venuto il tumore Però dice Io ho la percezione Che ovviamente L'abuso Che ho fatto Di steroidi Per i vari film Abbiano influito E che Comunque Ci sia un danno O un aumento Della possibilità Di alimentare Le cellule tumorali Procurare danni cardiaci Procurare danni Apparato cardiovascolare Cioè È in dubbio Ha problemi di pressione Poi dipende Quello che utilizzi Però Insulina Addirittura Cioè Quindi Problemi di diabete Cioè Questo è in dubbio È come dire Mangiare come un porco E diventare obeso Te create problemi È grazie al cazzo Ma non solo Anche il fatto Di avere così tanto Peso addosso Il cosiddetto La cosiddetta Obesità muscolare Cioè Questo è ovvio La cosa è ovvia Che aumenta la probabilità Ma magari Questi atleti O modelli Come potremmo chiamarli Non avevano esempi Del passato Comunque non abbastanza Di cosa poteva accadere Nell'anni 80 C'era poco conoscenza No Guarda Ti dico In realtà Non è tanto quello È che Dipende in che epoca Parliamo ovviamente Cioè Se tu prendi Arnold Già è diverso Eh beh lui Essendo tra i primissimi Lui si è fermato Cosa? Ha smesso no? Sì No ma infatti dico Se tu prendi La Golden Age O addirittura Prima ancora L'Harry Scott Che già si bombava Però Steve Reeves Che invece secondo me Era pure natura Se prendi proprio I primi Anche Eugene Sendo Il primo Culturista della storia Tant'è che La statuetta del mister Olimpia E lui Quelli ovviamente no Non avevano informazioni E anzi Molti In quel periodo Abusavano di farmaci Perché si rendevano conto Solo degli effetti positivi Al breve termine Ma anche tra Comunità scientifica Cioè Nei primissimi periodi Io ci vedo Ci vedo La roba di Icaro Ovviamente Cioè nel voler perseguire Un modello di perfezione Che in realtà Nessuno l'ha deciso Che oggettivamente Io non trovo Esteticamente Attraente E poi Ci vai a pagare A lungo termine Cioè È una cosa pure scontata Tipo Avvertimento della nonna Non esagerare Però mi sembra proprio questo Gente che esagera In qualcosa Sì sì Guarda Anche qua Non me voglio romper coglioni La storia proprio Del culturismo È bella Cioè È interessante Da studiare A partire dalla Grecia Dai modelli Dai primi esempi Diciamo Di proporzioni Perché poi I primi diciamo Culturisti Erano anche I natural veri Parliamo di Quella roba là Comunque persone Che facevano Quella roba lì Ma senza Il supporto Di queste cose Super dannose Sì sì Alcuni erano Proprio bei fisici Cioè Lo stesso Eugene Sand Se vedi le foto Oggi Dici Porca troia Come cazzo stava Ma anche Steve Reeves Steve Reeves Che poi ha fatto l'attore Ovviamente Sì però Era bellissimo Si percepisce Quando uno Sta messo bene E quando uno È esagerato Almeno io Riesco a capire Quando uno Ha un bel fisico E quando invece C'è stato un altro Che è poco esagerato Non so come dire Sì sì ma infatti Poi lì Il culturismo Chiaramente Poi quando Arriva Al bodybuilding Professionistico Non è più Un modello estetico Cioè Non è più Un modello estetico Di bellezza Diventa Semplicemente Un tuo personale Modello È una tua Ossessione Come magari Chi esagera La donna Che esagera Con la chirurgia estetica A un certo punto Non riesce più A capire Il concetto Di proporzione Il concetto Di perfezione Di imperfezione Cioè si vede Allo specchio Ci sono infatti Le dismorfie Le dismorfofobie Non vedi Cioè vedi Vedi un difetto Ovunque Cioè Se uno si mettesse Allo specchio Dice Ah cazzo Però Forse potrei un po' Poi Naso Si potrei un po' Delato L'orecchio La fronte Cioè a un certo punto Ugale bodybuilding Però il deltoide È come una dipendenza Secondo me Eh sì Il deltoide Però non è abbastanza Stondato Sempre piccolo Sì perché sono tutte Ovviamente Estremizzazioni Che poi pure qua Bisognerebbe parlare Con uno psicologo Alcune ci hanno Delle nature Delle matrici particolari Psicologiche Altre no Di base La storia del culturismo Se volete va riassumo Però magari non è Adesso il caso Di base Non è tanto Non avere esempio Almeno all'epoca di Arnold Il fatto è che Sì I primissimi magari Non lo sapevano E anzi Anche alcuni scienziati Sentivano pure furbi All'epoca Che hanno facevano Uso di questa roba qua Non è che mettevano Particolarmente in conto Il fatto che Potevano Avere complicazioni Pure mortali Immagino Guarda che I primi studi Sulle sostanze steroidee A parte quelli che avevamo Visto pure i nazisti Cioè il tentativo Di trapianto Di testicoli Per aumentare Il testosterone In maniera Esogene Eccetera I primi esperimenti Sono precedenti Ai primi grandi Culturisti Ovviamente Alcuni poi sono In campo sportivo C'è tutta La fetta sovietica Ok Però Molti medici Hanno cominciato A creare In provetta Il testosterone All'inizio In quantità minime Cioè nel senso Che tipo Con Testicoli Animali Riuscivano A riprodurlo In una quantità Microscopica Che ovviamente Non ha avuto effetto Poi sono riusciti Diciamo A sintetizzare In molecola Ad esempio Il testosterone E piano piano A fare gli esperimenti Inizialmente Era percepita Come una cosa Ovviamente notevole E non era in commercio Perché non era stata Provata Però Sul breve termine C'avevi degli effetti Assurdi Perché cazzo C'ho un testosterone Esogeno Quindi cazzo Da uomo Miglioro tutto Nella mia vita C'ho più forza C'ho più resistenza C'ho più energia Mi crescono più i muscoli Assessualmente Sono a bomba E poi però Ovviamente Piano piano Quando hanno cominciato A fare gli studi Sono usciti fuori Gli effetti collaterali A breve Medio E lungo termine Certo E poi infatti L'ha studiata Chiaramente Tutta la scienza Sì Ma infatti L'hanno preso Sia nelle competizioni sportive Quando c'è stata La famosa guerra Oppure americana E sovietica Nell'ambito dello sport Eppure quella Era un gioco Ovviamente dei poteri Quindi a bomba Gli atleti Spesso pure loro Non dico malgrado Ma magari inconsapevolmente Tipo sì Prendi le vitamine E magari era Che cader di Annabelle No capito E poi Piano piano Si è creato pure Il culto insomma Ecco del bodybuilding Già ai tempi di Arnold Si utilizzava molto Però le persone comuni Cioè non lo sapevano Perché Non c'era la cultura Che c'è oggi Sul testosterone Quindi se tu entravi In quei posti lì In quelle palestre lì C'è chi ti dice Oh senti Andiamo in farmacia E sepiamo il testosterone No Però anche loro Sì magari sottovalutavano Un po' Gli effetti collaterali Oggi Che avremmo a disposizione Tutto Dal punto di vista Dell'informazione Succede l'opposto Succede Che i Canali In cui si potrebbe Vevolare l'informazione Anche quelli che lo fanno Abbastanza bene Diventano Dei modi Per far accedere Prima A quelle sostanze Un ragazzo O addirittura A far accedere Basta Perché magari In un passato Come questo Che ti dicevo Dove si Avveniva tutto Purtroppo Sotto la sabbia Ma era una nicchia Ristretta E quindi il ragazzino Non ci arrivava adesso Tu vedi su tiktok I ragazzini Che esaltano Il trembolone E tu dici Che cazzo è Il trembolone E vai a vedere Dici Oh ziz Che se faceva Fammi La lista Ah voglio pure Essere così Scusa È un figo Balla Sta in mezzo alle fregne C'è un fisico della madonna E viene pure esaltato Diventa un modello Un modello Nonostante sia morto A vent'anni Porca madonna E quindi Oppure io voglio Essere come ziz Il trembolone Eh Ertrenbaud 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 Esatto È la stessa cosa Che avviene con i soldi Sono tutti modelli Sono tutti modelli Capito È il modello Del bel fisico È il modello Da bella macchina Del conto in banca E quindi Capito Marco Chitano È un po' raccio È così Perché guadagna 20.000 euro al mese Cioè Ma capite La stupidità No Preferisco campare Sì E poi ripeto Libero Il problema è Dire no A un grande Il Chitano è il classico Il Chitano è il classico Che tra 15 anni C'ha la Chitano Enterprise E ci tratta malissimo Dei robot È tipo La fabbrica di robot Sì C'ha tutti i robot Intelligenza artificiale Robot fantasy Una cosa strana Una corporazione In stile cyberpunk Sarebbe figo E io sono mezzo robot Andrà così Spero di sì Che vuol dire Però tra il dire e il fare C'è un abisso Sì Hai ragione Però su cosa Non ho capito Non c'è neanche il mare C'è l'abisso Boh Non lo so Quello che dico Ovviamente ragazzi Soprattutto quelli giovanissimi Che non hanno un background Magari come il nostro Ma il nostro per fortuna Di essere nati In una certa epoca Si bevono questi modelli Adesso senza possibilità Di capire bene Neanche il perché Senza fermarsi A riflettere Quindi Cioè Come in passato Può essere uno Che genuinamente Vuole diventare Un grande bodybuilder Ok Però tutti gli altri Però anche quello Deve essere consapevole Che sta a fare un danno A se stesso Come chi decide Di fumare Perché se comincia A fumare Perché quelli Amici tuoi Ti dicono Ti è Pia testa sigaretta Capito Pia testa Che te fa bene Che sei più figo Cioè il sottotesto È quello È come l'esempio Che abbiamo visto ieri Perché te vesti così Pari una donna Ah no Non voglio essere preso In giro dagli amichetti Quindi cominci a fumare Per quello Non è giustamente Che è quello Che è il figo Dalla classe Che sta là E se fuma A sigaretta Ti viene a dire Guarda che Sì Leggi bene Che qua C'è scritto Danni cardiaci Non te lo dici E tu te lo pappi E questo pure I nostri padri I nostri nonni Anzi pure peggio 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 Cioè mi nonno Ripeto Mi diceva Le sigarette Ce le regalavano Arminitaria A scuola Sì sì Quindi è ancora peggio E quello che succedeva Ai tempi Ai nostri nonni Per far cosa Poi sempre per vendere Cioè erano i marchi De sigarette Che pagavano Hollywood Gli attori Le case di produzione Le case sportive Pagavano Per farse smarchettare Insomma Le sigarette E loro Purtroppo Cioè si fumavano In luoghi pubblici Si sono bombardati A follia E poi erano Pesanti Eh capito E poi erano Le sigarette Capito Quelli Purtroppo Loro valbrato Sono equivalenti Senza filtri Ma che stai scherzando Fumate Fumate E quelli Ovviamente Erano vittime Oggi uno Ha Almeno a disposizione Tutte le informazioni Per capire Che fumare Fa male Poi decidi Deve farlo Legit Scelta tua Però almeno C'hai Strumenti Magari in passato Ce n'hai molti Molti meno Ed è quello Che sto dicendo Nell'ambito Ecco Di questi ideali Malsani Ma uscendo fuori Al discorso Steroidi Di cui magari In fregancazza Nessuno Ma anche il fatto Di spernacchiare Un tizio Che se vuole Mettere unghie lunghe Che si Per noi può essere Gringe Faride Ridicolo Ma che c'entra Sentiste superiore Mettendo in contrapposizione Ripeto Tutti sti modelli Di cui abbiamo parlato Fino a mo Che so Dannosissimi Perché Perché Che poi stavo a pensare Un'antica Grecia Se ci pensate Soprattutto pure a Sparta Non c'era il concetto Di omosessualità Omofobia E quindi C'erano tanti rapporti Uomini Fra uomini Quindi usa poi 300 come esempio De vilidità E mascolinità È una follia Vabbè ma è giusto Ci stanno Ste regole cristiane Ma stai Se tromba Chi gli pare Ma trombate Chi ti pare Non è meglio Sì ma infatti Posso dire una cosa Io l'ho trovato sempre Un film super gay Sì Una cifra Gaiissimo Super Inconsapevolmente Ma la parodia Infatti Di loro Che si salutano Slinguazzandosi E di questi Con queste barbe Che si slinguazzano Per salutarsi Infatti che stavo A sparare Fward Perché stavo in modalità Mezzogiorno di fuoco Quindi stavo a sparare Fward Però l'ho trovato subito Super gay 300 Involontariamente Cioè Volendo essere capito Perché poi Snyder Pure sugli altri film Insomma Si capisce che immaginario C'ha Tutt'altro Che Che quello Però Si troppo Io ci pensavo Troppo Troppo Che vai A finire Dall'altra parte Quasi Troppo Si ho detto Questi Vedranno La desco Vai E frega un cazzo Capito Sta al lago Che c'è pure Coso Tra l'altro Come si chiama Quello Cazzo L'attore che ha fatto Shame Oddio Chiedo scusa a Marco Chitano Ma perché Prima stava proprio Mentre si immaginava I rapporti gay Aveva una luce speciale Negli occhi Che non gli vedo quasi mai Perché chiedi scusa Non ho capito Perché Fa sbendersi No perché Ti ho interrotto Solo per quello Ah no no Non si preoccupi No vabbè Questo Si sono d'accordo Marco Cioè Dai tu non hai pensato Mai che fa sbendere Leoni Da mo' si può buttare al culo Assolutamente No ma io Questo io lo pensavo Si sono d'accordissimo Mi stupisco Che loro lo usino Come film Virile Per i uomini Quello è mastunnato Bravo Non ci hanno capito niente Ma poi in realtà Sono tutti profondamente Eccitati dai muscoli De Goku Questi che fanno Sti video Se ce fai caso Come lo ero io Sì ma poi Non c'è niente di male Non decidi tu Che la live è finita No andiamo avanti Per un'altra ora e quaranta Ma sì ma che c'è de male Anzi Tu che lo scrivi Vorresti un bel cazzone in bocca Non c'è niente di male E vedi Kitano Vorresti un bel cazzone in bocca Però lo so che lo vuoi de Non c'è niente de male Però sì Non c'è niente di male Che? No dai Non è il caso Che succede? No 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 Vabbè dai La live è finita Che squali State a arrivà Ello Croce Da No Grazie per la visione!